Oggi a Bruxelles sarà un consiglio europeo di guerra e le conflitto in Ucraina, la crisi in Medio Oriente al centro dell'agenda, come pure la difesa comune su cui 27 sono divisi sugli strumenti per finanziarla. L'ipotesi di Eurobond è sostenuta da Roma e Parigi, contraria alla Germania. Il presidente ucraino Zelensky sollecita il leader europeo a dare il via libera a nuovi aiuti. Serve la volontà politica per proteggerci dai terroristi russi, dice. Nella notte la capitale Kiev è bersaglio di una violenta offensiva russa. Il blitz all'ospedale al Shifa di Gaza è ancora in corso, fa sapere l'esercito israeliano comunicando che nell'operazione sono stati uccisi finora 140 terroristi di Hamas. Sale la tensione in Cisgiordania. A Tulka reme quattro vittime nella notte negli scontri tra i miliziani e i militari di Tel Aviv. Gli Stati Uniti annunciano di avere presentato all'ONU una risoluzione per un cessato il fuoco legato al rilascio degli ostaggi. Il sindaco di Bari Antonio De Caro definisce inquietanti e sospette le tempistiche dell'ispezione disposta dal ministro Piantedosi per verificare eventuali infiltrazioni mafiose nell'amministrazione comunale e nelle municipalizzate con il rischio di scioglimento del comune. Decisione presa dopo gli arresti dell'inchiesta sul voto di scambio. Noi siamo pronti a dare il nostro supporto, assicura comunque De Caro che oggi incassa anche il sostegno di Giuseppe Conte. E' un chiaro attacco politico, dice il leader dei Cinque Stelle. La lotta alle mafie, pesante zavorra per il nostro paese, compito e dovere di tutti coloro che amano la Repubblica, così Mattarella nella 29esima giornata del ricordo con il lungo elenco dei nomi delle vittime innocenti scandito durante la manifestazione promossa a Roma da Libera. Oggi la mafia spara meno ma è più pericolosa. Una peste da estirpare, dice il fondatore Donciotti, chiedendo memoria, verità e impegno civile. Commozione, dolore e rabbia. Nelle parole della sorella di Giulia Tramontano, la 29enne, uccisa al settimo mese di gravidanza dal compagno Alessandro Impagnatiello, accusato anche di averla avvelenata per mesi con un etopicida. Giulia sentiva strani sapori nel cibo e nell'acqua e aveva costanti dolori allo stomaco. Ha testimoniato Chiara nella quarta udienza del processo a Milano, ricordando che dopo la scoperta del tradimento la sorella pensò ad abortire ma poi rinunciò sentendosi già mamma. Buongiorno e bentrovati a tutti voi. Dunque lo dicevamo nei nostri titoli. A Bruxelles si sta aprendo proprio in questo momento il Consiglio europeo dei capi di Stato e di Governo che stanno arrivando in questi minuti sul tavolo le guerre di Ucraina e di Gaza ma ci sono anche altri temi importanti come la difesa comune. Lo chiediamo subito alla nostra inviata che si trova a Bruxelles, Gabriella Caimi. Buongiorno Gabriella. Sì, buongiorno Caterina. Sì, qui si stanno completando gli ultimi arrivi prima dell'inizio ufficiale del Vertice che comincerà con un pranzo di lavoro dei leader con il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres. E poi si comincia a parlare appunto del grande tema, il tema della guerra. Per farvi capire come si è arrivati a questo Consiglio basti pensare che il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nei giorni scorsi aveva fatto pubblicare un articolo il cui titolo era Se vuoi la pace preparare la guerra. La Presidente della Commissione von der Leyen ha chiesto all'ex Presidente finlandese Nisto di preparare un rapporto su come sensibilizzare i cittadini, i civili sui rischi di una guerra. Quindi il tema della guerra è il tema centrale di questo Vertice che si divide in due sottotemi. Uno è l'Ucraina, la situazione dell'Ucraina che ha un urgente bisogno di nuova assistenza militare e poi appunto come costruire una nuova difesa europea. Per entrambi questi temi il grande problema è quello delle risorse, dei fondi, come devono essere trovati. Per quanto riguarda l'Ucraina si sta pensando a utilizzare i profitti degli asset russi che sono stati congelati dopo l'inizio della guerra, dell'invasione dell'Ucraina. Si tratta di 3 miliardi l'anno, quindi di una cifra consistente che verrebbe utilizzata appunto per Kiev. Come dice Zelensky, ci vuole la volontà politica. Il problema è che alcuni paesi ancora appunto non sono d'accordo. Per quanto riguarda invece la difesa comune europea, anche qui il problema delle risorse, si è prospettata la possibilità di creare degli euro bond, di creare un debito comune per finanziare la difesa. Tagliani, il nostro ministro degli esteri, ha detto che ha un'ottima idea la Germania, i paesi frugali, puntano i piedi. L'Italia di Giorgia Meloni arriva qui dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio in Parlamento. Ha specificato che siamo con l'Ucraina come lo siamo stati per tutti questi anni, ma c'è una linea rossa. L'Italia non intende mandare truppe sul terreno, così come invece aveva prospettato nei giorni scorsi il presidente francese Emmanuel Macron. Quindi questa per noi è una chiara presa di posizione. Se vi dico anche che poi nella cena di stasera si affronterà un altro grande tema, quello del Medio Oriente. L'Unione Europea chiede una pausa, un cessato il fuoco, qualcosa che impedisca che a Gaza si muoia ancora di fame e una soluzione per riportare gli ostaggi israeliani di nuovo a casa. Ecco, quindi vi dico che questi sono temi ovviamente estremamente ricchi, estremamente difficili e sono soltanto i temi della prima giornata di questo vertice. Perché poi domani invece si parlerà di economia, si parlerà di euro, si parlerà di agricoltura, si parlerà di immigrazione. Quindi una o due giorni a Bruxelles veramente ricca e ovviamente Caterina vi terremo aggiornati nelle prossime edizioni. Certamente, grazie, grazie alla nostra inviata Gabriella Caimi. Allora andiamo a vedere che cosa sta succedendo sul campo in Ucraina dove si sono intensificati i bombardamenti russi. Nella notte sono stati ben 31 i missili diretti verso Kiev, incluso un ipersonico quasi tutti intercettati dalle difese aeree del paese. Almeno 13 persone sono rimaste però ferite nella regione della capitale ucraina. E intanto la Santa Seda ha smentito l'indiscrezione fatta circolare da un sito di notizie francese secondo il quale l'ambasciatore russo presso il Vaticano avrebbe invitato il pontefice ad andare a Mosca a giugno per incontrare Vladimir Putin. E poi andiamo sul campo alla guerra a Gaza. In questi ultimi giorni gli attacchi israeliani si sono concentrati soprattutto sull'ospedale di Al-Shifa dove si sarebbero nascosti i terroristi di Hamas e ne sarebbero stati uccisi 140 come ha annunciato, come ha riportato oggi Tel Aviv mentre la situazione umanitaria nella striscia di Gaza peggiora di giorno in giorno sul fronte diplomatico. Il segretario di Stato americano Blinken è arrivato questa mattina in Egitto e ha incontrato il presidente Al-Sisi al centro dei colloqui l'accesso degli aiuti umanitari nella striscia di Gaza e anche il raggiungimento, l'obiettivo di una possibile tregua. Per la sesta volta in Medio Oriente dal massacro del 7 ottobre scorso Anthony Blinken è arrivato questa mattina in Egitto paese che svolge un importante ruolo di mediazione tra Hamas e Israele. Al Cairo il segretario di Stato americano ha incontrato il presidente egiziano Al-Sisi nel tentativo di ottenere un cessato il fuoco a Gaza in cambio della liberazione degli ostaggi ancora a prigionieri nella striscia e del rilascio di alcuni detenuti palestinesi da parte di Tel Aviv. La risoluzione, fanno sapere gli Stati Uniti, è stata presentata al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dove ci si auspica che venga sostenuta dagli altri paesi. Sarebbe un segnale forte, afferma Washington che fino ad ora non aveva mai chiesto apertamente il cessato il fuoco. Blinken, che contrariamente a quanto annunciato domani si reicherà in Israele, ha già incontrato a Jedda il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman con cui ha discusso della crisi umanitaria e degli sforzi per aumentare gli aiuti ai palestinesi ormai allo stremo. Questo mentre il viceammiraglio Brad Cooper si trova in Israele per discutere il progetto americano di costruire un molo galleggiante a largo delle coste della striscia di Gaza per portare un aiuto significativo alla popolazione. Intanto Israele chiede l'immediata evacuazione dell'ospedale Al-Shifa a Gaza avvertendo che la struttura, la più grande e moderna della striscia potrebbe essere nuovamente bombardata e distrutta. Secondo IDF, nelle ultime 24 ore altri 50 miliziani di Hamas che si erano rifugiati nel complesso ospedaliero sarebbero stati uccisi in aggiunta agli oltre 140 caduti dall'inizio dell'operazione lunedì scorso. In Italia con il caso Baric ormai è diventato un caso politico all'indomani dello sfogo del sindaco De Caro dopo l'ipotesi del scioglimento del comune per un presunto intreccio tra politica e mafia è scontro tra la maggioranza che fa quadrato intorno al ministro dell'interno Piantedosi e il centrosinistra che parla invece di attacco politico. Questa mattina il sindaco De Caro che tra l'altro è anche presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia ha partecipato alla manifestazione contro le mafie di Libera che si è svolta questa mattina a Roma e ha ribadito il suo impegno alla lotta alla mafia annunciando che comunque si metterà a disposizione della commissione d'indagine. Credo di essere un esempio di sindaco antimafia che sono sotto scorta da nove anni per aver denunciato estorsioni, usure e fatto arrestare tante persone nella mia città arriva una commissione d'accesso però come dire io indosso la fascia tricolore ho giurato sulla Costituzione aspetterò serenamente gli ispettori della prefettura ci metteremo a disposizione per le valutazioni il supporto che vorranno, la documentazione non abbiamo niente da nascondere. Antonio De Caro sfila a Roma alla testa del corteo di Libera contro la mafia il sindaco di Bari e presidente dell'Anci rivendica il suo impegno contro la criminalità organizzata torna a criticare la decisione del ministro dell'interno Matteo Piantedosi di inviare nel capoluogo pugliese una commissione d'accesso per verificare le infiltrazioni nell'amministrazione e nelle aziende municipalizzate con la possibilità di risporre lo scioglimento del Consiglio Comunale. Una decisione che potrebbe arrivare tra il primo e il secondo turno delle amministrative a giugno a Bari si vota in contemporanea con le elezioni europee Commissione sollecitata dai parlamentari pugliesi di centrodestra dopo l'inchiesta che ha portato a 130 arresti tra cui quello di una consigliera comunale eletta nel centrodestra e poi passata a sostenere l'amministrazione di centrosinistra guidata da De Caro Non c'erano neanche le condizioni per avviare la commissione ma siamo a disposizione le tempistiche dell'ispezione mi inquietano siamo nel pieno di una campagna elettorale dove peraltro non sono io il candidato sottolinea il sindaco che si dice pronto a rinunciare alla scorta assegnata gli nove anni fa per le minacce ricevute dai clan attacca il centrodestra che punterebbe così a riconquistare la città La maggioranza di governo difende la decisione di piante dosi che ribadisce il suo impegno contro le mafie di aver sciolto già 15 comuni per la maggior parte amministrati dal centrodestra Per il presidente dell'Anci la solidarietà di sindaci di centrosinistra delle forze di opposizione dei sindacati e delle associazioni antimafia atto grave, politico, mai visto quello di piante dosi per la segretaria del PD all'Islaim il leader 5 stella Giuseppe Conte è netto la modalità con cui è stato sollecitato il ministro degli interni con lo schieramento di sottosegretari e parlamentari di centrodestra è un chiaro attacco politico c'è una sollecitazione strumentale in un contesto in cui si va a elezioni Maria Carmen Lorusso e il marito Giacomo Olivieri ci sono loro al centro dell'inchiesta che ha portato all'invio degli ispettori da parte del Viminale al Comune di Bari inchiesta che ruota attorno ad un presunto intreccio tra criminalità e politica barese per voto di scambio consigliera comunale lei ex consigliere regionale lui entrambi eletti nel centrodestra e poi passati al centrosinistra la donna è finita agli arresti domiciliari lui in carcere con l'accusa di scambio elettorale politico mafioso lo scorso 26 febbraio nell'ambito di un'operazione coordinata dalla direzione distrittuale antimafia che ha portato all'arresto di oltre 130 persone la maggior parte delle quali legate a clan che avrebbero tentato di condizionare le elezioni comunali del maggio del 2019 vinte dal centrosinistra che sosteneva Antonio De Caro secondo gli inquirenti Olivieri avrebbe stretto accordi con esponenti di famiglie mafiose dei Parisi Montani e Strisciuglio per fare eleggere la moglie in cambio di denaro posti di lavoro e buoni benzina in manette anche il padre della consigliera l'oncologo Vitolo Russo già indagato per concussione e peculato per aver chiesto soldi ad alcuni pazienti per saltare le liste d'attesa in cambio di voti per la figlia il medico avrebbe curato un nipote del boss Savinuccio Parisi poi morto in carcere i clan erano riusciti ad infiltrarsi anche nella municipalizzata dei trasporti che è stata commissariata un anno e mezzo fa era stata arrestata per voto di scambio un'altra consigliera comunale Francesca Ferri è eletta anche lei con il centrodestra il procuratore di Bari Roberto Rossi ha chiarito subito che l'inquinamento del voto è stato parziale circoscritto sottolineando in più di un'occasione dopo gli arresti la grandissima collaborazione data dall'amministrazione di De Caro nella lotta alla criminalità organizzata e avete visto le immagini di Libera la manifestazione contro le mafie organizzata come ogni anno da Don Ciotti quest'anno si è svolta a Roma e si è appena conclusa la lotta alla mafia e compite dovere di tutti coloro che amano la Repubblica questo il messaggio del Capo dello Stato si riparte per l'economia europea il 2024 sarà l'anno del ritorno alla crescita e la Banca Centrale Europea a mettere in fila i segnali di ripresa in atto che sottolinea in assenza di ulteriori shock fanno ben sperare finora è stata debole perché i consumatori hanno dovuto contenere la spesa le imprese hanno investito poco e le esportazioni sono diminuite si legge nel bollettino economico pubblicato oggi sicuramente lo avete capito non era il servizio dedicato alla manifestazione contro le mafie di Libera penso che adesso sia pronto vediamolo eccolo Giorgio Pecoraro Bernardino Ferro hanno lasciato per un giorno i piccoli comuni della piana di Gioia Tauro della Locride della Sicilia e delle province del nord per sentire quel nome letto ad alta voce tra oltre 400 nomi per ricordare il volto con le foto che portano appesa al collo sulla mascherina o sulla maglietta sono i parenti delle vittime innocenti di tutte le mafie che da 150 anni affollano le cronache del paese sono ragazzi uccisi per uno scambio di persona madri morte mentre camminavano per mano con i figli solo perché si sono trovate sulla linea di fuoco tra bande ci sono ragazzi che si sono illuse di salvare il fidanzato dalla mafia e sono state punite come Rossella Casini Fiorentina uccise e fatte a pezzi poi dispersi nel mare della Calabria ci sono vittime della lupara bianca mia sorella che è vittima di lupara bianca ancora non abbiamo il suo corpo è mio padre perché cercava mia sorella io avevo dieci anni e mi affacciai al balcone ho visto mia madre a terra in una pozza di sangue e mano nella mano con lei c'era mio fratello Francesco di soli cinque anni Salvatore oggi è qui perché aspetta di essere chiamato aspetta di essere ricordato memoria dei morti e impegno civile ripete Donciotti fondatore dell'associazione libera perché oggi la mafia spara di meno ma è più pericolosa dice il sacerdote che non si veste da prete perché la criminalità organizzata si è evoluta raffinata utilizza tecnologie di avanguardia arriva ovunque e ingloba tanti colletti bianchi l'impegno assiduo della magistratura delle forze dell'ordine non basta non basta più tagliare la mala erba in superficie va estirpata alla radice dice Donciotti con la formazione scolastica e le politiche sociali cioè casa lavoro sanità cultura sono centinaia i ragazzi della giustizia minorile hanno sbagliato devono pagare ma devono avere una luce e da 14 anni che noi costruiamo dei percorsi dalla Sicilia alle Valle d'Aosta dalla Locri dal Tentino d'Alto Adige con questi ragazzi si ricordano i cento passi tra la casa di Peppino Impastato il capo mafia Gaetano Badalamenti marciano i bambini giovani tanti studenti delle scuole con i cartelloni fatti da loro ci sono gli universitari il terzo Ateneo di Roma oggi è chiuso per lasciare spazio a Libera una signora si affaccia e applaude la legalità che passa la procura distrettuale antimafia di Firenze ha sequestrato 18 milioni di euro a Marcello Dell'Utri condannato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso per l'accusa Dell'Utri avrebbe dovuto comunicare le variazioni di reddito in base alla legge Rognoni-Latorre per un ammontare di oltre 42 milioni e mezzo le somme secondo la DDA di Firenze sono quelle elargite da Silvio Berlusconi sequestrate somme anche alla moglie e l'ex sindaco di Torino Piero Fassino è stato assolto dal Tribunale del Capoluogo Piemontese nel processo sulle presunte irregolarità nella gestione del Salone del Libro tra il 2016 e il 2018 il reato di turbativa d'asta contestata a Fassino e all'allora Assessore Regionale alla Cultura Antonella Parigi anche lei assolta erano andati in prescrizione ma i giudici hanno pronunciato per i due la sentenza di assoluzione con formula piena perché il fatto non costituisce reato sono molto soddisfatto ha detto l'esponente del PD ma resta l'amarezza di aver subito per quasi 15 anni l'ombra di un sospetto fin dall'inizio era chiaro che non vi fosse alcun fatto che comprovasse le accuse infondate che mi venivano rivolte in totale sono state 5 le condanne e 12 tra assoluzioni e proscioglimenti per prescrizione e vediamo ai temi economici nonostante lo scenario internazionale che è ancora di guerra le previsioni della banca centrale europea sono positive ma in assenza di ulteriori shock così si legge nel bollettino di marzo che prevede una ripresa dell'economia spinta dall'aumento del reddito e dal calo dell'inflazione e la banca centrale svizzera taglia i tassi di interesse si riparte per l'economia europea il 2024 sarà l'anno del ritorno alla crescita e la banca centrale europea a mettere in fila i segnali di ripresa in atto che sottolinea in assenza di ulteriori shock fanno ben sperare finora è stata debole perché i consumatori hanno dovuto contenere la spesa le imprese hanno investito poco e le esportazioni sono diminuite si legge nel bollettino economico pubblicato oggi ma le previsioni di Francoforte indicano una ripresa graduale nel corso dell'anno così il PIL nei 20 paesi dell'eurozona crescerà dello 0,6% fino ad arrivare all'1,5% nei prossimi due anni a dare benzina alla crescita inizialmente sarà l'aumento del reddito dei lavoratori europei che si traduce in maggiori consumi privati visto anche il calo dell'inflazione poi come si legge nel bollettino di Francoforte ci sarà anche la spinta data dagli investimenti in aumento grazie ai prossimi tagli dei tassi di interesse ieri è stata la presidente della BCE Lagarde a far intravedere un primo possibile taglio del costo del denaro a giugno se i dati sul calo dell'inflazione saranno confermati anche se sarà la prudenza a continuare a guidare la politica monetaria della BCE oramai sono in molti tra gli addetti ai lavori a credere che nel 2024 ci sarà il cambio di direzione sui tassi di interesse in Europa e anche negli Stati Uniti oggi a sorpresa è stata la banca centrale svizzera ad abbassare il costo del denaro dall'1,75 all'1,5% e ieri anche se Powell presidente della banca centrale degli Stati Uniti ha lasciato invariati tassi ai massimi da 23 anni perché l'inflazione americana non è ancora del tutto tornata nei ranghi ha confermato tre tagli del costo del denaro nel corso dell'anno probabile dunque un taglio complessivo di 75 punti base i mercati hanno accolto positivamente l'annuncio della Fed sulla fine della politica monetaria restrittiva ma l'entusiasmo delle borse europee si è raffreddato a metà mattinata dopo l'arrivo dei dati deludenti sull'attività manifatturiera è in discesa dai 46,5 punti di febbraio ai 45,7 di marzo il livello più basso da tre mesi è ancora lontano dalla soglia dei 50 punti che divide le fasi di espansione da quelle di contrazione dell'economia torniamo alla cronaca con il processo a Milano per l'omicidio di Giulia Tramontano la giovane donna al settimo mese di gravidanza uccisa dal suo fidanzato in aula la sorella di Giulia Chiara ha raccontato gli ultimi mesi della sorella ha raccolto le sue confidenze Giulia diceva che tutto quello che mangiava e beveva aveva un sapore strano infatti secondo l'accusa in Pagnatiello il fidanzato avrebbe tentato di avvelenarla con un topicida Chiara Tramontano la sorella di Giulia arriva in tribunale poco prima delle nove insieme alla mamma Loredana al padre Franco e al fratello Mario tocca a lei la sorella minore deporre oggi nell'aula della corte d'assise di Milano per la quarta udienza del processo che vede imputato il reo confesso Alessandro in Pagnatiello i sospetti le bugie la sofferenza della relazione con quello che Chiara in aula chiama più volte l'imputato senza pronunciare il suo nome lui è dietro le sbarre lo sguardo sempre rivolto al pavimento non condividevo quella relazione dice la sorella tra le due c'era un legame forte fatto di confidenze e consigli anche a distanza mia sorella soffriva era stata lei a scoprire che lui la tradiva tramite la geolocalizzazione e delle cuffiette dello smartphone di lui mi faceva credere che ero pazza e paranoica mi diceva Giulia la sorella ricostruisce il momento in cui lei scopre di essere incinta il dolore perché lui non voleva quel figlio era una situazione psicologica pesante ma volutamente creata affinché lei non confidasse più neanche nella sua stessa lucidità ma fosse dipendente da quello che lui dicesse prima decide di abortire poi ci ripensa dopo che in Pagnatiello l'aveva convinta a non farlo avevo deciso di non essere più il giudice di quella relazione mia sorella era innamorata Giulia le raccontava del sapore strano che avevano cibo e acqua secondo la cosa in Pagnatiello tentava da medesi di avvelenarla col topicida in aula la commozione dei familiari quando Chiara lucida e sempre precisa ricostruisce il giorno della morte di Giulia il 27 maggio dello scorso anno quel giorno mi ha scritto Allegra che mi ha raccontato di essere la fidanzata di Impagnatiello e di aver raccontato tutto a Giulia dopo Chiara Tramontano in aula depone un collega di Alessandro Impagnatiello ricostruisce quel giorno il 27 maggio e l'incontro tra la donna con cui Impagnatiello aveva una relazione e Giulia Tramontano le due donne parlavano fitto erano sedute vicino non c'era tensione tra loro sembravano amiche racconta il collega tre ore prima dell'inizio dell'udienza sui social se il fratello che la madre di Giulia Tramontano hanno scritto continueremo a lottare affinché sia tolta per sempre la libertà a chi ti ha impedito di essere una figlia una madre una sorella vi leggo un'agenzianza arrivata ora il Tribunale di Roma ha disposto nell'ambito di un incidente probatorio una perizia per accertare le cause della morte del giornalista Andrea Purgatori deceduto nel luglio del 2023 nel procedimento sono indagati per omicidio colposo quattro medici i periti avranno 90 giorni di tempo per concludere i loro accertamenti nei quesiti posti agli specialisti si chiede inoltre di fare chiarezza sulla presenza di metastasi e individuare come e quando è partita l'infezione cardiaca adesso andiamo a Torino perché nega ogni coinvolgimento il giovane di 23 anni fermato ieri appunto a Torino per l'aggressione ad un suo coetaneo colpito a colpi di macete così raccontano i testimoni la vittima ha subito poi l'amputazione della gamba per il momento l'accusa è di tentato omicidio ma la sua posizione potrebbe aggravarsi il macete non è ancora stato trovato così come la persona che guidava lo scooter al momento dell'aggressione avvenuta lunedì pomeriggio nel quartiere di Mirafiorio a Torino nei confronti di un 23enne italiano a cui è stata amputata sotto al ginocchio la gamba sinistra a causa delle profonde ferite subite secondo gli inquirenti sarebbe stato Pietro Costanzia di Costigliole 23 anni di nobili origini piemontesi da ieri sottoposto a fermo indiziario a colpire più volte il suo coetaneo con una grossa arma da taglio mentre si trovava a bordo di un monopattino assieme alla fidanzata ventenne Costanzia è stato rintracciato in un albergo di Torino dagli agenti della squadra mobile per il momento l'accusa è di tentato omicidio ma la sua posizione si potrebbe presto aggravare a causa di reati commessi in Spagna per cui sarebbe destinatario in ordine di cattura internazionale ieri il sospettato prima di essere accompagnato in carcere non ha risposto alle domande del PM che indaga sul caso ha solo detto di non conoscere la vittima che rimane ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva del CTO di Torino lunedì la giovane coppia era stata avvicinata da uno scooter con a bordo due persone l'aggressore scende e colpisce più volte la vittima alla gamba sinistra prima di fuggire a bordo del mezzo agli inquirenti la fidanzata ha confermato di conoscere l'uomo che ha colpito il suo ragazzo sarebbe stata lei a mettere la polizia sulle tracce del presunto aggressore per ora restano ignoti i motivi dell'agguato forse più legato a questioni di droga o soldi che passionali e c'è stato un nuovo incidente sul lavoro questa mattina a Lucca un operaio di 52 anni è morto dopo essere caduto all'interno di uno scavo in un cantiere dove erano in corso lavori per una fognatura e di sicurezza sul lavoro ha parlato oggi la ministra Marina Calderone in due informative prima alla Camera e poi al Senato per illustrare le iniziative messe in campo dal governo dopo l'incidente al cantiere Selunga di Firenze del 16 febbraio scorso la ministra ha risposto alle critiche sulla patente a punti per le aziende che ha detto non mira ad attribuire un punteggio alla vita umana ha poi annunciato l'intenzione di raddoppiare lo stanziamento per il bonus alle imprese che registrano meno infortuni e continua a far discutere il caso dell'istituto di Pioltello nell'Interland milanese che ha deciso di chiudere la scuola alle aule il 10 aprile quando si festeggia la fine delle ramadanne ieri l'ufficio scolastico della Lombardia ha riscontrato delle irregolarità nella delibera con la quale è stata presa questa decisione e su questo caso è intervenuto anche il ministro dell'istruzione Valditara il consiglio d'istituto del comprensivo Iqbal Masì di Pioltello si riunirà forse già lunedì la delibera con cui a maggio scorso era stato deciso di inserire tra i giorni di chiusura della scuola quello di fine Ramadan che quest'anno sarà il 10 aprile dovrà essere rivista l'indicazione arrivata dall'ufficio scolastico regionale che lunedì ha mandato gli ispettori nella sede di Pioltello per verificare la correttezza del provvedimento dopo il clamore mediatico e le polemiche per la decisione dell'istituto dove gli alunni di fede musulmana sono oltre il 40% sono state evidenziate talune irregolarità della delibera assunta dal consiglio d'istituto spiega una nota del ministero dell'istruzione del merito il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ha pertanto invitato il dirigente a valutare la disapplicazione della delibera e la possibilità dell'annullamento per assicurare il rispetto delle disposizioni in materia quando era stato reso noto il calendario del comprensivo il ministro valditara aveva commentato le scuole non possono stabilire nuove festività in modo diretto o indiretto la scuola non è obbligata ad annullare la delibera ma l'invito non sarà ignorato il dirigente Alessandro Fanfoni spiega sarà doveroso coinvolgere nuovamente gli organi collegiali indignati i docenti che in una lettera aperta scrivono a Pioltello un quarto degli abitanti sono stranieri e i professori lavorano da anni per non fare scappare gli italiani per non creare classi ghetto il ministro valditara punta l'indice sul rendimento guardando le prove invalsi che misurano la preparazione degli studenti i risultati formativi sono enormemente inferiori rispetto a quelli della media lombarda dice ma il dirigente Fanfoni difende il lavoro della scuola i risultati vanno comparati con quelli di istituti che hanno lo stesso indice ESCS che considera stato sociale e culturale delle famiglie siamo allo sport il campionato di calcio è fermo per gli impegni della nazionale negli Stati Uniti questa sera l'Italia di Spalletti affronta la prima delle due partite in programma contro il Venezuela e domenica c'è l'Equador la vitamina di questa nazionale formato americano è decisamente sinner perché la sua presenza tra gli azzurri è molto più della visita di un campione Luciano Spalletti lo ha indicato come esempio ai suoi calciatori per come alleva il talento con la fatica e la tenacia dunque autodiscipline e motivazioni da replicare e oggi Yannick è annunciato al Chase Stadium di Fort Lauderdale per gustarsi l'Italia contro il Venezuela la prima delle due sfide in cui sperimentare nuove soluzioni in vista dell'Europeo domenica New York ci sarà l'Equador testa giusta no a brutte figure e soprattutto l'occasione della vita per i debuttanti assoluti Bellanova Falo Ruscio e Luca che rappresentano le indicazioni più stimolanti del campionato qui loro potrebbero davvero trovare l'America la nuova Italia deve essere sorprendente e meno leggibile tradotta una squadra fluida con la difesa a tre una punta centrale assistita da due trequartisti e gli esterni liberi anche di accentrarsi il tallone da Ghiul è sempre quello del centroavanti i due metri di Luca possono essere utili come pivot stasera parte il titolare dei Teghi un anno dopo la scoperta di Mancini dietro di lui Frattesi e Chiesa che può agire anche la seconda punta con Giorginio e Barella gli esterni sono Cambiaso e Udoji il trio di marcatori Scalvini Buongiorno e Darmian davanti a Donnarumma il Venezuela di Battista vive un ottimo momento la sorpresa delle qualificazioni mondiali il calciatore più rappresentativo a Rincon che ricordiamo con Genoa Juve, Toro e Sampdoria Essinere che avete appena visto incontrerà domani in un derby italiano scenderà in campo a Maieni e incontrerà Vavassori mentre sempre a Maieni è stato eliminato Berrettini Matteo Berrettini lascia subito Maieni è rimontato e sconfitto alla distanza al primo turno dell'ATP 1000 in Florida da Andy Murray nonostante avesse vinto il primo set dopo due ore e 50 minuti l'Azzurro ha finito per cedere 4-6-6-3-6-4 spavento sul finire del secondo set quando Berrettini mentre stava per servire una prima palla ha avuto un mancamento barcollando sulle ginocchia non è svenuto è riuscito a raggiungere la sedia a bordo campo ma il gioco è stato interrotto è intervenuto il medico che dopo avergli misurato la pressione ha dato l'ok per farlo continuare l'eliminazione non ha tolto il sorriso al tennista romano che dopo mesi di stop è rientrato nel circuito dopo tanti mesi fuori non avrei mai pensato di arrivare subito in fondo nel primo torneo fatto e qui a Miami di giocare comunque così bene so di aver fatto un grandissimo lavoro ho tanta fiducia nel nuovo team ha detto Berrettini dopo il match accede invece al secondo turno Matteo Arnaldi che ha battuto 6-3-6-4 il francese Arthur Fields numero 37 e che domani sfiderà il kazako numero 18 al mondo Alexander Bublik avanzano anche Flavio Kobolli battuto in 3-7 il giapponese Nishioca e Andrea Vavassori che ha eliminato l'argentino Kachin regalandosi così il derby di domani contro Yannick Sinner e vedo già pronto Vittorio Russo di che cosa si occuperà la redazione digitale Vittorio buongiorno Caterina buongiorno a tutti oggi parleremo sicuramente dei meme che spopolano sul web sui social e che hanno come protagonista Giorgia Meloni ma vediamo tra poco perché allora vi aspettiamo subito dopo la pubblicità a tra poco con le notizie della redazione digitale Eccoci di nuovo in diretta passo subito la parola a Vittorio Russo della redazione digitale con le notizie dal web Di nuovo grazie Caterina bentornati allora io vi mostro subito questa fotografia è la prima pagina del Wall Street Journal che ha ripreso una vicenda tutta italiana ovvero quanto è successo ieri alla Camera dei Deputati tra il leader delle alleanze Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il dibattito Bonelli ha chiesto alla Premier di smettere di guardarla in modo inquietante di guardarlo in modo inquietante e lei tutta disposta si è coperta la testa con la giacca e quindi a quanto pare questa scenetta non soltanto ha fatto il giro del mondo ma ovviamente è finita sui social dove sono arrivati come sempre capita i meme ve ne mostro alcuni vedi che succede a metterci la faccia scrive un utente su X o un altro date un titolo a questa foto ma c'è anche poi come si legge in quest'articolo pubblicato sul nostro sito chi si espone di più criticando l'aggettivo inquietante e dice perché dire che sembrava bisognosa dell'esorcismo di Padre Amort pareva eccessivo Padre Amort è stato un esorcista della diocesi di Roma e quindi ci sono tutte le facce fatte dalla Meloni in quella circostanza e poi spazio all'ironia quando è agosto e sale su un bus pieno di gente che non si lava oppure c'è chi ha scomodato l'extraterrestre è tinato dalla geniale mente di Steven Spielberg al quale in questo meme Giorgia Meloni è stata equiparata con lui nella coperta e lei nella giacca ed è stata scomodata anche Peppa Pig con non me fotografa forse una Meloni quasi intimidita dall'obiettivo della fotocamera e poi in conclusione un classico cucù settete in rete sui social in web circola anche questa intervista un'esclusiva della televisione francese al vicepresidente della Duma il Parlamento russo Piotr Tolstoi che è molto vicino a Putin è una chiacchierata che comincia in una maniera molto tranquilla rilassata il vicepresidente cammina per le strade di Mosca con il giornalista ma i toni cambiano man mano che il giornalista incalza Piotr Tolstoi con le domande vediamo un pezzetto dell'intervista che voi non ritrovi più voi che avete si sovvent in Francia qu'est-ce che vous aimez in Francia che voi non ritrovi più oggi? Ecoutez j'aime bien la France j'aime bien la culture j'aime bien je regrette beaucoup che je ne pourrais pas amener mes enfants a Louvre je sais pas montrer Paris etc Oui parce que vous voulez plus envoyer une bombe nucléaire a Paris en ce moment c'est plutôt ça il discours bien sûr à la télévision russe on calcule la durée qu'il faudrait pour un missile nucléaire pour arriver à Paris non deux minutes selon Soloviev pas deux minutes un peu plus mais ah donc vous avez commencé à calculer les plans oui bien sûr on calcule parce que vous savez pour nous ce qui est important historiquement pour la Russie c'est assurer la sécurité du pays et quand les pays de l'OTAN dont aussi la France mettent les missiles autour de nos frontières et veulent mettre les missiles en Ukraine en adhérant à l'OTAN à l'Ukraine donc pour nous c'est inadmissible il vicepresidente della Duma in pratica evoca la terza guerra mondiale parla di possibili missili nucleari su Parigi insomma tutte parole bellicose che altro non sono che una risposta a quanto aveva detto il presidente Macron la scorsa settimana a proposito di un eventuale invio a Kiev di truppe francesi contro la Russia un'idea che ha specificato in questa intervista Tolstoi potrebbe concludersi con l'arrivo all'aeroporto di Orlì di bare coperte dal tricolore bare che ha specificato non sarà sicuramente Macron ad accogliere come video diciamo molto visto e condiviso sui social c'è questo ve lo mostro subito ed è la realizzazione di un murale a Belfast in Irlanda un murale dedicato al poeta Refat Alarer che è stato ucciso lo scorso 6 dicembre in un bombardamento di Israele sulla striscia di Gaza si tratta comunque di immagini che sono state dipinte sulle mura della città irlandese una dopo l'altra e tutte legate insieme da questo simbolico nastro rosso sul quale sono stati scritti i versi della sua ultima poesia si intitola Se dovessi morire ed è subito dopo la sua morte è stata ben tradotta in oltre 40 lingue Alarer oltre ad essere un poeta e un insegnante d'inglese quindi un anglista un attivista palestinese è stato anche il fondatore del progetto We Are Not Number che aveva come obiettivo quello di mettere in contatto i giovani scrittori di Gaza con i giovani gli scrittori più esposti a livello internazionale proprio per usare la narrazione come strumento di resistenza palestinese e sempre nell'ambito di video virali sicuramente quello più cliccato e visto oggi ha come protagonista un uomo tetraplegico di 29 anni ed è la prima persona alla quale è stato impiantato nel cervello il chip di Neuralink di Elon Musk attraverso il quale adesso questo ragazzo può non soltanto muovere il cursore del mouse di un pc ma addirittura fare una partita a scacchi e vediamo come spiega questa situazione non ho attempi 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 In pratica ci sono subito state le reazioni della comunità scientifica, addirittura la Food and Drug Administration ha messo in dubbio i controlli qualità sugli esperimenti sugli animali fatti da Neuralink. Tra i trend di oggi c'è poi la giornata mondiale della poesia che è stata istituita nel 1999 dall'UNESCO e coincide proprio con il 21 marzo, con il giorno in cui nel 1931 nasceva Alda Merini, la poetessa scomparsa nel 2009. Ci sono tanti omaggi, messaggi di auguri in rete, ricordi e noi abbiamo deciso di ricordarla con queste parole, siate soltanto giovani. Mi sono famosa a 16 anni e lo sono diventata e poi quando sono diventata dentro non c'era niente. Ho perso la giovinezza. Purtroppo non capiamo quando siamo giovani che cosa abbiamo in mano, un valore incredibile. Noi vogliamo essere famosi, no. Siate soltanto giovani, il resto non conta molto. Speravo di diventare famosi. Non siate soltanto giovani, il resto non conta molto. È un messaggio importante. Vi lascio, vi saluto, vi ricordo il sito tg.lasette.it e tutti i nostri social. A te Caterina. Grazie a Vittorio. Vi do un aggiornamento sul Consiglio europeo che si è aperto poco fa a Bruxelles. Le parole dell'alto rappresentante Borrelle. Israele ha il diritto di difendersi ma non di vendicarsi. Spero che il Consiglio europeo oggi lanci un forte messaggio a Israele, ha detto e aggiungendo i bambini stanno morendo di fame, ha aggiunto Borrelle. È tutto per quanto riguarda il telegiornale. Adesso vi lascio a Tiziana Panella con Tagadà. Grazie per averci seguito e buona giornata. Arrivederci.